Ok, signori, è un po' timida. Siate carini e fatele un applauso. Benvenuti a Jurassic World. È come fare una passeggiata nel bosco. 65 milioni di anima. Verdi! Stai indietro. Bravo. C'è una nuova attrazione. È progettata per essere più grande del T-Rex. Non mi sembra una buona idea. Qualcosa non va. Stanno comunicando. Mi sembra che stiamo parlando di un animale. È un animale molto intelligente. Per favore, manteniamo la calma. Jurassic World. Siamo al sicuro qui dentro. Da giovedì 11 giugno al cinema. £1.